allora volevo far notare per esempio nella serie 5 se io moltiplico l'uno per 1,58 49 ok mi dà 1,58 49 dunque e poi se moltiplico 1,58 49 mi dà 2,5 119 così di fila vediamo se è vero cioè se io moltiplico 1,58 49 per 1,58 49 è uguale a 2,511 che qua questo lo moltiplico sempre per 1,58 49 è uguale a 3,98 come qua idem per 1,58 49 è uguale a 6,03096 moltiplico per 1,58 49 è uguale a 10 a questo punto idem è qua nel senso che se io moltiplico adesso cancello 1,25 89 per 1,25 89 mi dà 1,58 48 che sarebbe questo qua qui è approssimato va bene è questo comunque questi numeri sono uguali dunque se moltiplico questo per sempre per 1,25 89 è uguale a 1,99 dunque ogni numero moltiplicato nel caso delle 5 per 1,58 49 per le 10 1,25 89 e per l'erre 20 1,1220 mi dà il numero successivo dunque adesso proviamo anche con la serie r20 se noi per esempio moltiplichiamo il 2,2,5 119 questo qua per 1.1220 siamo nella serie r20 dovremmo ricavare il 2,8 184 vediamo uguale 2,8 18 dunque siamo giusti dunque ogni numero moltiplicato moltiplicato per nel caso del r20 1,1220 nel r10 1,25 89 e nel r5 1,58 49 mi dà il numero successivo ok ci vediamo alla prossima vediamoci ciao